La protesta a Trieste contro il rigassificatore davanti al Consiglio Comunale straordinario sui temi dell'occupazione. La pioggia battente non ha fermato i manifestanti che questo pomeriggio hanno partecipato alla vivace protesta contro il rigassificatore che Gas Natural vorrebbe realizzare a Zaule. A pochi metri, ma ne parleremo dopo, il Consiglio Comunale straordinario sull'emergenza lavoro, cui ha partecipato il Presidente della Regione Tondo, che ha definito legittima la protesta. Da registrare sull'argomento un duro scambio d'accuse tra lo stesso Tondo da una parte e dall'altra, la segretaria del PD Serracchiani e il sindaco di Trieste Cosolini. Tondo ha chiesto alla Serracchiani dove e quando avrebbe espresso la sua contrarietà al progetto nato peraltro sotto la giunta Illy per Cosolini e buffo che chi governa da quattro anni e mezzo chiami ora in causa chi c'era prima. Ma vediamo la protesta ora nel servizio di Alessandra Solarino. Non voglio rigassificatore, assolutamente. A questo Consiglio Comunale non mi lasciano entrare. Sono una cittadina italiana, sono triestina, pago le tasse, il comune è mio. Ci formeranno quattro gocce d'acqua. Queste sono questioni importanti che vanno risolte subito, immediatamente. Sono in tanti sotto il palazzo del comune di Trieste. La postura parla di 300 manifestanti contro il progetto del rigassificatore di Zaule. Non li ferma la pioggia battente. Chiedono di entrare nella sala del Consiglio. Vogliono parlare con il governatore Renzo Tondo che sta partecipando ad una seduta straordinaria sui temi dell'occupazione e sapere perché la regione, nonostante il parere contrario di comune e provincia, ha concesso l'autorizzazione integrata ambientale. Andiamo dal Friuli, siamo del Comitato per la vita del Friuli Rurale che da anni sta combattendo contro le speculazioni dei piani energetici locali imposti nelle trattorie romane. Ha un tondo che va a ricevere ordini e che vende la nostra autonomia. Stamattina a Roma, al Ministero per lo Sviluppo Economico, si è ottenuto un tavolo tecnico organizzato dal Ministero di Corrado Passera per ascoltare i pareri degli antilocali coinvolti. Presenti gli assessori all'ambiente di provincia e comune di Trieste, Zogli e Laureni. Assente invece un rappresentante della regione. È movimentato anche il Consiglio straordinario comunale di Trieste sull'emergenza lavoro che è tuttora in corso. Sentiamo le interviste di Rossana Vesnavera al Presidente della regione Tondo e al Sindaco Cosolini. Magari fosse una questione solo della città di Trieste, una questione che attraversa tutta la regione, tutto il paese, tutta l'Europa, tutta l'Italia. Questa comunità soffre perché evidentemente Trieste soffre quanto altro e comunque più anche di altre. Noi stiamo seguendo con i tavoli sulla Ferriera, sulla Sertubi, su tutte le crisi multinazionali che ci sono. Stiamo seguendo tutte queste crisi occupazionali. Certo ci sono anche elementi che ci danno incoraggiamento. Pochi mesi fa, poche settimane fa abbiamo inaugurato una linea produttiva nuova di pasta Zara. Mi pare che dobbiamo anche istillare nella nostra comunità elementi di fiducia pur in un momento di crisi. Tema del giorno non del Consiglio comunale ma della cittadinanza e rigassificatore. Che risponde? Guardi, innanzitutto devo dire che sul rigassificatore l'aggiunta a tondo non ha ancora prodotto nessun atto. Nessun atto. Gli atti vengono da lontano, vengono dall'amministrazione precedente. Detto questo noi ci confronteremo con il Consiglio, con la provincia, col governo e valuteremo. Insomma mi pare prematura un'azione di protesta preventiva come questa che è legittima dal punto di vista delle scelte dei cittadini. Ma insomma c'è ancora molto strana a fare davanti e siamo pronti a discutere. Evidentemente noi abbiamo rispettato le regole che prevedevano un invito al Presidente della Regione e al Presidente della provincia per parlare della situazione economica ed occupazionale. È chiaro che ciò non toglie che sul rigassificatore ci sia un diffuso dissenso in città, che sia una posizione negativa motivata delle amministrazioni e ci sia anche un grande disagio per quella che è stata la forzatura. Io l'ho rappresentato in un colloquio personale con il Presidente Trondo, la forzatura in sede di conferenza sull'autorizzazione integrata ambientale dove si è saltato a pie pari il parere negativo delle istituzioni locali.